E ecco la che stai entrando in questo momento Mi ricorda qualcosa quest'auto? E qui qua, riuscite a credere di risparmiare che gli stessi Pronto a partire, signori, quello che avete visto si chiama Burnout Ma la sorpresa di oggi è che per fare un pernato Non si è riuscita a fare un pernato Attenzione giustamente che sta prendendo il rumore Le misure effettivamente, adesso partite perché vi ho chiesto di stare un pochino più lontani dalle transenne